Una rimonta incredibile, in attesa, spettacolare, la Rayer Venezia femminile di coach Andrea Liberalotto recupera lo meno 20 della gara d'andata contro Latte Ibayuk Seherbele di Efspor, vince 80-57 e si qualifica alla finale di Eurocapo contro il Galatasaray. Si giocherà l'11 aprile a Istanbul e la settimana successiva al tagliercio di Mestre. Il tabellino Umanarayer Venezia Teibibi 80-57, parziali, 14-10, 40-23, 68-41, Umanarayer Venezia, Mikovic 11, Vestagno 2, Carangelo 10, Caceric N, E, Williams 24, Depretto 12, Sandri N, E, Ruzzicova 4, Dotto 2, Little 6, Togliani N, E, Walker 9, Teibibi Javas, Paris 17, Michel 10, Znitzina 7, Denis N, E, Ozzaltin N, E, Koclar N, E, Tanakan N, E, Ociurk 6, Aiden, Ben Abdelkader 17, Mirkeva. Totali di squadra, Umanarayer Venezia, tiri da 2-16-42, tiri da 3-11-24, TL, 15-19, rimb, dif, 35, rimb, off, 7, PP, 9, PR. 7, Assist 21 a Teibibi, tiri da 2-10-31, tiri da 3-9-28, TL, 10-13, rimb, dif, 33, rimb, off, 8, PP, 17, PR, 1, Assist 14 video Basketball Iros, Mike D'Antoni, un cervello fatto per il basket, da giocatore e allenatore. 7, Assist Lunch 8, Assist